Comandante, quali sono i risultati delle attività svolte durante il 2015 in tema di contrasto all'illegalità economico-finanziaria? Noi abbiamo svolto una intensa azione in vari settori, dal quello fiscale a quello della spesa pubblica, a quello del contrasto del contrabbando e chiaramente della criminalità organizzata. A livello di verifiche fiscali sono stati eseguiti più di 400 controlli, sono state denunziate diverse decine di persone e di cui tre anche tratte agli arresti domiciliari. Per quanto riguarda il contrasto alla spesa pubblica e alle frodi comunitarie, sono stati sequestrati individuati i frodi per circa 5 milioni di Euro e per quanto riguarda la comunità organizzata sono state avanzate proposte sia di sequestro che eseguite delle confische patrimoniali per diversi milioni di Euro. Abbiamo fatto anche diversi servizi a tutela dei diritti audiovisivi e quindi sequestrati numerosi CD e DVD contraffatti o riprodotti legalmente e sono state anche fatte delle attività in materia di contrabbando con il sequestro di diverse partite di gas che non aveva pagato le dovute dazi doganali e le dovute imposte sul valore aggiunto. I cittadini sono tutelati attraverso una intensa attività di controllo economico-finanziario sia in primo luogo ma anche attraverso delle attività a contrasto della criminalità organizzata. Con i cittadini noi intendiamo avere un rapporto osmotico per cui invitiamo chiunque a denunciare ogni fatto di legalità soprattutto che riguarda le materie di particolare competenza della Guardia di Finanza quali sono quelle economiche e finanziarie sia attraverso delle denunce presso le nostre caserme sia utilizzando il numero 117.